ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri orologi un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri video e alle vostre collezioni di orologi ora oggi abbiamo tolto completamente da oggi non si vedranno più le videocartoline dalle vacanze perché ci siamo un po stufati delle vostre vacanze e quindi chi è stato pubblicato è stato pubblicato chi non è stato pubblicato non vedrà mai più il suo video cartolina mi spiace ragazzi ma non è che si può andare avanti tutta la vita a pubblicare video di 10 secondi con l'orologino che va in acqua e salta fuori no non si può non si può allora niente oggi andiamo veloci faccio vedere il mio orologio del giorno che è questo simpatico Longin Skin Diver 42 mm di diametro casca quadrante nero calibro L888 300 metri di impermeabilità e chi più ne ha più ne metta e qui lo vedete nella sua configurazione estiva con il nato arancione ora fra un pochino glielo togliamo gli mettiamo il suo bracciale maglia milanese originale o un cuoio no che mi ha fatto junku straps però per la maggior parte del tempo poi rimarrà lì no lo uso anche d'inverno lo uso anche d'inverno questo qua questo qua lo uso anche d'inverno però in genere i diver li metterò un po da parte perché per dare spazio agli altri non perché non si può usare un diver d'inverno semplicemente perché li uso già d'estate e diamo spazio agli altri orologi che ho se no si litigano tra loro no vogliono salire sul polso a tutti i costi bisogna dargli l'opportunità la barra spaziatrice pronta l'indice è pronto speriamo che sono pronti anche gli amici fuoco ciao david ciao complimenti per il canale per tutte le visualizzazioni telemeriti grazie io guardo spesso canali diciamo in lingua inglese in giro per il mondo e devo dire insomma che ti difendi bene grazie molto gentile allora questo l'ho visto proprio sul tuo canale eh sì mi è piaciuto e sono andato a comprarlo è un orologio che ha un design veramente valido che come per quello che costa gli swatch sono oggi eccezionali che durano molti anni a batteria e quindi qui senza problemi quindi poca spesa molta resa certo lo sguoccio in collezione ci sta la mia collezione di pochi pezzi sono sei pezzi va bene questo è un cartier un pascha modello c di 35 mm è un orologio solidissimo pesante ha una lavorazione in tutte le sue componenti eccezionale e questo termina proprio la percezione della qualità su su questo orologio devo dire che in questi ultimi anni cartier è al primo posto mi piacciono molto i anche ma sia che ha messo e vediamo prima o poi santo se guardo se ne prendo più di uno hub perché sono orologi che che stanno avendo un grande successo questo per dire è un cartier francese a misura media automatico anche per questo orologio costruito in maniera ineccepibile nei vede ottima qualità e c'è proprio una percezione della qualità in questi orologi io sono cioè finché uno non vi ha preso in mano lo diceva anche cicciolino si capisce bene la percezione quadrante con lavorazione ghidlosh al centro nella secondina e questo probabilmente affiancherò a un tank normale sempre braccialato perché è molto 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 bello molto grazie molto dimenticavo il pascha che hai visto prima è un designer di gero al gero bravo però ragazzi al suo perché poi viene questo rolex date top testa oro è un orologio del 73 tenuto benissimo perché è stato dal precedente proprietario in cassaforte 25 anni è stato revisionato e poi l'ho acquistato io perché come nuovo e direi che insomma è un orologio che che molto d'impatto perché quando se lo porti d'estate tutti lo notano mi dà un po fastidio perché anche una cosa che non c'è poi una percezione di stare tranquilli oggigiorno anche per andare per dire in città insomma bisogna stare un po attenti poi c'è questo classico a lei già stato del 98 è un orologio particolare cinturino ciubilè corona in oro bianco ghiera lunetta quadrante lino così definito grigio è un tuttofare intramontabile è un classicissimo l'orologeria e devo dire che è un orologio che porto spesso perché c'è per me come ripeto non tuttofare è elegante e funzionale insomma lo consiglierei per una persona che vuole un unico orologio rappresentativo e secondo me abbiamo capito a paga tutte le sue funzioni bravo ultimo cos'è questo patek minghia calatrava 35 20 di la referenza lavorazione coat de paris a bello fondello a vite fibbia che costa un patrimonio perché ho dovuto comprarla a parte lavorazione smaltata del quadrante con base oro ma scusa è un orologio che un po l'orologio che che a me è sempre piaciuto di calatrava purtroppo sono inarrivabili con i prezzi però questo insomma c'ero fatto rientrare quello che costano i patek però quando indosso questo orologio mi sento veramente soddisfatto appagato perché mi emoziona certo devo dire che la lavorazione è straordinaria e la qualità si percepisce tenendolo anche questo in mano bene caro questo è tutto meno male ti ringrazio per la disponibilità e spero di avervi fatto piacere ma certo un caro saluto a tutti un salutone ciao ciao a parte qualche termine volante quella che ha detto coat de paris la lavorazione sulla lunetta lì del simpatico calatrava ma in realtà è claude paris claude paris cioè sono delle piccole piramide una a fianco all'altra e danno quell'effetto lì bello e calatrava mi piace tanto ma purtroppo a me quella configurazione lì con tutti quei numeri romani intorno al quadrante così non c'è di meglio secondo me c'è di meglio certo quelli moderni contemporanei tanta roba 30 mila euro costano quanto è giù di lì però sarebbe bello averne uno di quelli lì è veramente e poi anche gli altri dei giastini che c'hai ma tutti baglierò io ti darei un bel cartier poi c'è anche cartier una bella passione c'è una bella collezione da appassionato la tua ci piace tanto direi un bel lotto un bel lotto e tanti complimenti e tante buone cose no piacere arrivederci ciao davide ciao mi chiamo jacopo jacopo ti vorrei mostrare la mia collezione di orologi è certo allora faccio parte del canale da circa due anni appunto vedendolo quasi ogni settimana mi hai fatto venire una bella scimmia per gli orologi bravo ti mostro la mia collezione vorrei approfittare per salutare i miei nipoti leonardo e federico che seguono anche loro il canale ciao sono appassionati anche loro sia orologia batteria bravi e quelli leonardo e allora inizierei dalle marche quindi partirei con omega omega vai questo è automatico master date 39 alla data e conosci bene certo eccolo qua mi sembri abbastanza parli veloce passerei ciao la data a questo che è un omega si master diver 300 questo è diciamo il primo orologico ho comprato circa due anni e mezzo fa perché mi ha presa una bella rota e quindi questo è stato quello che ha dato via via agli acquisti di un certo livello bravo ho anche il cinturino d'acciaio che però adesso è la scatola questo è il cinturino di cauccio certo ecco qua bello mi piace anche col cauccio a me questo omega acqua terra confiammelo questo è di alligatore dovrebbe essere sì e questo è del 2011 qua del 2011 sono quelli con la cassa simmetrica se non mi sbaglio che è un pochino più cicciotta dalla parte della corona e montrano il calibro l'8500 questo qua mi sembra di sì con le righine così verticali si è bello mi piace si preferisco il mio calibro 2500 è molto elegante ma anche sportivo allo stesso tempo calibro 8500 questo axial ho vinto ho vinto sono bravo poi passerei a questo a cui sono molto affezionato che è un bright ring navi timer avia star è un tipo di writing molto particolare perché è stato fatto in occasione dell'anniversario dell'aeronautica militare questo mi è stato dato da mi è stato regalato dal mio padre che era un aviatore un aviatore questo appunto per i 75 anni dell'aeronautica militare ci piace tanto non si vede molto spesso questo cinturino che ho comprato nuovo sta abbastanza bene certo poi sempre ti vorrei mostrare anche altri due cronografi che sono regali di mio padre questo è proprio appartenuto a mio padre che era aviatore questo veniva assegnato ai piloti di g91 a cervia questo è proprio il suo e questo ci dovrebbe avere 4 5 mila euro di volo calibro le mani a dei date cronografo e questo è proprio assegnato vedi c'era l'aquila del pilota ai militari assegnato ai piloti militari bello assai g91 stiamo parlando di anni anni fa g91 poi fiat abbiamo questo ce l'ho qua eccolo lì che è un breguet type 20 transatlantic anche questo diciamo un regalo di mio padre mamma mia che belli belli e questo c'è una storia particolare perché è stato regalato questo modello uguale è stato regalato da mio padre a tutti i componenti maschi della famiglia quindi in pensione regalato questo a tutti e io sono appunto uno di quelli e questo è dotato del sistema cronografico flyback quindi con questo tasto una volta che la lancetta del cronografo dei secondi attiva si resetta e inizia da capo ecco se io a volte vado a vedere sul sito breguet quali sono gli orologi interessanti della casa che è di prestigio quindi uno dice ma perché non guardare in casa breguet e vedere se c'è qualcosa di interessante da assaggiare il type 20 con questo tipo cronografo qua proprio anche questo che c'è per le mani l'amico è uno di quelli che mi potrebbe piacere che mi interesserebbe avere poi altri modelli interessanti di altre famiglie non è che ce ne tanti sono abbastanza classiconi come orologi breguet invece sto qua bello sportivo così con la ghiera in acciaio la lunetta in acciaio l'unico problema è che uno dice vabbè mi piglio un breguet calibro di manifattura un bel cronografino faranno no sottili no e li fanno spessi anche loro li fanno come se tu ci mettessi dentro un 77 50 ma allora cosa gli facciamo a fare calibri di manifattura se non dobbiamo andare a migliorare qualcosa no provate un attimo che fai sviti avviti che fai non parte non funziona ecco lo buttiamo via lo prendo io accendo il cronografo e con questo bottone eh sì fly back simpatico dai poi passiamo a questo cos'è che è un tagoier monaco top che ci ha messo un bel cinturino blu di alligatore e questo l'ho comprato perché sono fissato con breaking bad e questo è l'orologio di walter white eh sì è vero ah ah eccolo bravo complimenti belli orologi sei proprio un bravo ragazzo poi passiamo a questo cos'è che è un Eberhard Shantigraf che mi ha regato mia moglie per il decimo anniversario di finanziamento ci siete arrivati eh mia moglie finanziamento è un po' complicata la storia comunque questo è Eberhard Shantigraf C'è un Eberhard Iglon亲 21 che ho preso ad un ottimo prezzo su una nota piattaforma di compravendite Ehh molto classico 41 si si un bel orologio ci piace l'Eglon dopo di che passiamo a questo Zulu Time Spirit Zulu Time che ho comprato da un simpatico amico di Bra che saluto molto bello cinturino nato ha la funzione GMT e questa speciale colorazione ha i numeri in oro non so se è oro vero oppure non credo comunque questo è 42 molto importante è importante sì poi passiamo con calma questo che è un Rolex Oyster Perpetual nero questo è appena arrivato beh non mi piace questo questo è appena arrivato, è l'anno 2024 come nuovo? mi piace, mi piace preferito quelli da 39 vecchi però poi questo che va in combo con questo perché io sono un tennista ah in combo quindi questo è They Just Wimble è un 36 è brutto però e pure questo è nuovo mamma mia è arrivato da poco e questo è un orologio che ho sempre voluto e quest'anno me lo sono regalato è fatto bene però è brutto eh poi facciamo questo che è un classico supplier note 8 che ho preso da pochissimo questo è tutto tipo da poco tanto basta aprire il portafoglio benissimo benissimo sì preferito annodata perché per vari motivi non ultimo quello per cui ho trovato a un buon prezzo che ho deciso di prenderlo subito mi inchiariti la sveglia che mi dice che sto passando i 7 minuti quindi rapidamente direi questo è di mia moglie che era della nonna è un They Just Full Gold 37 si è messo la sveglia appena revisionato portato alla concessionaria per fare la revisione nuovo e infine questo questo è l'ultimo speriamo o la madonna è Philippe ellipse oro giallo e porcellana questo è un regalo di per i miei 40 anni di mia moglie e ci sto ok è tutto qui grazie Davide grazie a te spero che il video ti è piaciuto e ti saluto ciao saluti e baci minghi a quanti orologi belli che c'è l'amico io gli darei un bel 9 un bel 9 se lo merita tutto perché sono tutti orologi di pregio e anche di marchi che vanno da dalla A alla Z cioè non è che si fossilizza su qualcosa in particolare qualche Rolex un paio di Digest se non mi sbaglio non mi ricordo più Wimbledon è brutto poi voglio dirti la sveglia non è che la devi mettere a 7 minuti se il tuo massimo è 7 minuti quando te l'ascolti è già troppo tardi dovevi metterti di fronte a te un cronografo di quelli che c'hai in modo a vedere il tempo che passa il tempo che passa tutti gli orologi poi metti la sveglia al telefonino cronografo quando sei a 5 acceleri un po' a 6 minuti acceleri un po' a 7 finisci no? no metti la sveglia a 7 quando la senti vuol dire che il tempo è scaduto e devi ancora continuare cosa fai? tagli lì? no hai visto? è continuato fino a 8 io sono magnanimo e te lo passo perché è anche un peccato cestinare un bel video con tutti questi orologi simpatici il breghet il breghet non è che se ne vedono tanti bravo il 9 te l'ho dato e siamo tutti contenti prossimo video ciao Davide piacere sono Sergio 35 anni e ti mostro la mia collezione vai ti anticipo che non sono un appassionato di questo mondo nel senso che non sono un appassionato fervente di questo mondo mi piace moltissimo l'orologeria forse anche perché sono uomo ma anche perché ho avuto mio padre e mio fratello che mi hanno mi hanno fatto avvicinare a questo mondo quindi anche se non conosco i tecnicismi comunque mi piacciono gli orologi allora porto subito ho capito ma è quello che siamo tutti nessuno conosce i tecnicismi e ci piacciono gli orologi sei perfettamente un appassionato non è che esuli perché non sei un tecnico cioè anche io a volte parlo di tecnica ma ne parlo come ne mangio non è che è la maggior parte degli amici qua cioè non è che per essere appassionati di orologi bisogna essere un tecnico orologiaio anzi ci sono spesso tecnici orologiai orologiai che non gliene frega niente degli orologi lo fanno come lavoro diventa routine diventa lavoro magari lo fanno perché hanno trovato ci sono capitati nel tempo negli anni passati si sono ritrovati a fare l'orologiaio come lavoro di bottega e continuano e magari non sono nemmeno non gliene frega niente di avere l'orologio al polso cioè una cosa non esclude l'altra l'altra non esclude quella questa non esclude quell'altra e bla e bla e bla cioè sei un appassionato voglio mostrarti il mio primo orologio che è un Seiko 5 bravo un SNX con questo col fondello a vista eh e il quadrante con questo blu blu dettario e tutto questo l'ho preso più che altro per lavoro sia questo che il secondo che ti farò vedere perché lavorando a Milano e in tutta la Sicilia un po' di paranoia ce l'ho quindi ho preso un puntato su un orologio che costa poco però che è è blasonato come il Seiko diciamo che è una garanzia infatti minima spesa massima resa certo e mi trovo davvero bene quindi bravo il cinturino è devastante terribile infatti questo sarebbe bene un bel giubilì ma per quello che mi serve a me questo va benissimo ma certo secondo orologio mi dicevo un altro Seiko questo è un Seiko 5 Sport lsrpd con questo quadrande verde molto bello non è un Hulk sicuramente però è davvero un bello orologio più che altro l'ho preso per il mare anche questo qua fonde la vista però l'unica cosa negativa è secondo me la vite la corona la corona a vite secondo me il fatto che manchi non capisco perché non l'abbiano fatta con la corona a vite ma l'hanno fatto a pressione io a mare l'ho messo effettivamente non entra nulla però un po' di di paranoia ce l'ho sinceramente con questo orologio per quello che costa per quello che devo fare io va benissimo così sta cosa con la vita sui Seiko 5 Sport è un po' una rottura di scatole cioè nel senso che è anche basta sono fatti così se Seiko ti dice che sono 100 metri 10 atmosfere con la corona a pressione le sue belle guarnizioni vuol dire che regge che ci fai tutto quello che devi fare ripeto l'unica cosa è che devi sempre controllare prima di entrare in acqua che la corona sia inserita perché se hai a pressione ti potrebbe essere rimasta agganciata da qualche parte fa così si sgancia e ci entra l'acqua poi anche da vedere se ci entra ma lo faccio anche io con le corone a vite prima di entrare in acqua la prima cosa da fare è sentire se è avvitata perché può succedere di dimenticarsi la svitata quando si è specie noi che cambiamo orologio ogni giorno regoli metti la data lo chiudi ti dimentichi di avvitarla quindi va sempre controllato prima di entrare in acqua e poi la corona a vite il suo pro il suo maggiore è che avendo la corona avvitata la cassa risente meno degli urti esterni se prende un colpo essendo avvitata è praticamente solidale e la tige che sarebbe l'albero della corona non subisce i danni che una corona a pressione potrebbe subire lateralmente così rovini la guarnizione e poi ci entra l'acqua ma sto qua c'è le spallette le hai visto hai messo già a ore 4 apposta per evitare la maggior parte dei colpi poi c'è le sue belle spallette di protezione rovinarlo però attenzione ogni 3-4 anni 5 più spesso possibile fargli un test da pressione da un orologio che tanto te la fa con poco se non gratis e così poi dopo vai al mare tranquillo per controllare le guarnizioni adesso passiamo alla ciccia ti mostro il terzo orologio che so che ti piacerà è questo Bratling il Super Avenger 2 bello grosso questo è un 48 mm bello il seco di prima l'SNX 37 se non ricordo male 38 lo Sport questo qua è un 48 questo apparteneva all'amico fratello di mio padre fraterno di mio padre questo qui è davvero un orologio bello grande allora ecco per essere così grande sicuramente è sportivo ma su me è anche elegante solo che ho detto a mio padre ai tempi quando ero un ragazzino che mi piacevano gli orologi grandi questo qua è stato un'occasione ora sinceramente lo metto con difficoltà però sono affezionato a questo orologio ma l'occasione per indossarlo la puoi trovare perché un orologio grande così ci sta un cronografo impermeabile lo indossi nelle situazioni più sportive magari quello è un pochino al massimo dell'informalità si può si può trovare poi dovrei trovarmi anche io perché 48 è tanto però quarto orologio che ti mostro è un acquisto che ho fatto a Milano qualche mese fa un'occasione assurda l'IVC Portofino con il questo qua è un 38 pure con gli indici che sono arabi e non sono romani io mi innamorai del Portofino quando l'ho visto in un negozio era quello con riserva di carica dove sono arabi? poi anche Leonardo da Vinci il portoghese lo adoro infatti questo cinturino è del portoghese con la chiusura del plug-out è in pelle quindi questo in estate non deve stare in cassetto non si deve muovere però davvero questo qua è un orologio molto elegante so che a molti non mi piacerà forse neanche a te piacerà perché sembra più depensionato ma io lo adoro mi piace tantissimo e poi l'ho preso sia perché mi piace ma anche per l'occasione certo ci sono altri V-C che mi piacciono di più però questo mi piace tantissimo perché non dovrebbe piacermi a me piace io li acquisto gli orologi così anche semplicemente i long game vintage che hanno questo stile così minimal a me piacciono un casino solo il quadrante bianco le sfere argentate insomma lo fanno proprio per raggiungere il massimo dell'eleganza che non si vede vedo o non vedo proprio per mimetizzarsi la fanno apposta cioè deve essere talmente elegante da non essere sfrontato nel mostrare le lancette però mi piace quell'orologio lì poi ho detto che c'è gli indici con i numeri arabi ma lì agne ne è di numeri arabi tutte stanghettine date un'arguaiata forse mi sono ripetuto più volte ultimo orologio che ti mostro è il Tudor Black Bay 58 questo è un 39 se non ricordo male un 39 mm questo secondo me è il mio orologio che ho in assoluto è uno dei migliori che abbia mai visto visto no provato sì perché ne ho provati i orologi anche grazie al mio padre al mio fratello questo Tudor non perde un colpo cioè nel senso che si perderà qualche secondo ma alla fine è molto irrilevante dovresti metterlo un mese consecutivo a vedere quanto perde ma il fatto è che dopo due giorni che non lo uso questo cammina ancora cioè assurdo vabbè macchinario Rolex quindi di che stiamo parlando cos'è? e niente questa è la mia collezione ovviamente tutti questi orologi sono full set quindi con scatola garanzia e tutto complimenti per il canale e grazie grazie mille e grazie mille a te mettiamo un bel set un bel set perché insomma alla fine c'è tutti i orologi simpaticamente simpatici non è che non si parte dai due secchini 5 l'Avenger l'EVC e il Tudor dai un bel set ci sta ci sta l'orologio che mi piace più della tua collezione chiaramente è il Tudor Black Bay 58 che però io non comprerei mai perlomeno per il momento insomma di quelli lì che mi hai mostrato non è quasi nessuno vabbè i 6 o 5 si li comprerei volentieri li ho avuti anche quindi però di quelli costosi non ne comprerei nemmeno uno farei altre scelte però siamo è tutto bello perché siamo diversi quindi un bel set te lo meriti perché alla fine si hai begli orologi e poi il gusto è tuo ciao Davide sono Gianni da Genova innanzitutto complimenti per il tuo canale grazie e ti mando il mio secondo video infatti il primo te l'avevo mandato due anni fa quando ancora facevi vedere delle carrellate veloci degli orologi dei tuoi appassionati e quindi ora prenderò qualche secondo in più per condividere l'aggiornamento della mia collezione prenditelo non me ne volere ma ci sono cascato nella ciofeca e oggi mi è arrivato questo ST19 della Seagal pilot pagato pochissimo è il primo crono della mia collezione e ovviamente l'ho preso così per gioco per divertirmi un pochino e seguiranno altri cronografi svizzeri mi piacciono le linee non è niente di entusiasmante ma è un giocattolino per divertirsi ma ci sta ma guarda dire oh che sto invecchiando e sto diventando più buono ma ci sta ci sta tra l'altro questa configurazione qua così quadrante bianco due contatori è di dominio pubblico no sono tante case che fanno i cronografi fatti così da Hamilton a Tagoyer a qualsiasi quindi non non voglio non fa il giocattolino nemmeno il ST19 è un calibro che fa il suo come direbbero i miei amici del canale fa il suo va bene un bel cronografino goditelo goditelo senza pensieri oggi sarebbe differente se uno mi si presentasse qua con una sfilza di questa roba qua e mi dicesse questi sono migliori perché il rapporto qualità prezzo perché questo e quell'altro io ti dico ma vai a quel paese ma goditeli ma non venire a romperle scatole qua no invece te consapevolmente addirittura lo definisci giocatolo sai i limiti del marchio diciamo così dell'azienda che te l'ha costruito e quindi te lo godi consapevolmente ci sta per me va bene poi passo a un altro acquisto di quelli che tu hai recensito ed è questo Citizen Suiosa con colore di colorazione azzurra nella lotteria dei movimenti mi è capitata quella con fermo macchina e devo dire che come colorazione estiva è molto molto divertente come orologio perché comunque mi ci trovo bene veste bene considerando che io ho un polso abbastanza grosso di 21 cm quindi direi che sono più che soddisfatto dell'acquisto certo essendo che in collezione mi mancava comunque un GMT due anni fa ho comprato questo Seiko 5 Sport con ghiera Batman se così la vogliamo chiamare o nero blu bravo devo dire che senza infamia senza lode è un buon orologio dà soddisfazione mi piace il bracciale che per essere un Seiko comunque devo ammettere che è molto molto solido e e quindi sono molto soddisfatto anche di questo orologio il problema del bracciale Seiko invece si può vedere su questo Manterei che ho comprato ormai 4 anni fa però mi si è rotto il bracciale e l'innesto del bracciale per la muta mi si è rotto e quindi ho dovuto ovviare con questo bracciale nato che non è un granché ma comunque molto comodo e vestibile un perno un perno si è spezzato volevo condividere con te un ricordo particolare che mi sono fatto sistemare due anni fa che è questo longin di mio nonno è bello un 34 mm so che è molto piccolo per il mio polso tutto in oro ma comunque ogni tanto me lo metto così per divertirmi per che bello per ricordare mio nonno che bello quando tu hai recensito il Tissopi RX ho approfittato subito dello sconto del tuo amico Pasquale Domenici e l'ho acquistato saccate devo dire che è stato il mio primo bracciale integrato il secondo è stato lo Tsuyosa ce ne hai tutti e due bravo e il movimento mi ha stupito devo dire che ha una precisione molto 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 buona sempre detto poi sempre un oro già recensito da te ma non un modello 39 ho comprato questo Glyssin Combat Sub 39 mm con la ghiera verde bello mi piaceva il colore e ho deciso di togliermi questo sfizio e comprarmi un orologio o un altro diver da aggiungere alla mia collezione ci vuole non è che puoi star senza poi condivido con te un altro orologino che è questo Hydro Conquest l'Ungine Hydro Conquest ho cambiato adesso il cinturino per l'estate l'ho comprato braccialato e devo dire che la qualità dell'Ungine negli anni è sempre rimasta molto alta soprattutto per le finiture e soprattutto anche del dial che è ipnotico per quanto mi riguarda ci piace l'Hydro Conquest ti faccio vedere l'ultimo orologio della mia collezione che in verità è stato il primo orologio che ho comprato da quando mi sono appassionato del 2020 appena uscito ed è questo Rolex Oyster Perpetual in formazione 41 che ovviamente in verità come tutti i Rolex di questo tipo è 39 però devo dire che siamo sicuri che è stata la mia passione fin da subito e questo mi ha fatto avvicinare ancora di più all'orologeria dopo questo ho iniziato a comprarne uno dietro l'altro spero che il video ti sia piaciuto e continua così grazie mille buona giornata ciao 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 ora te mi dici che è da 39 vorrei proprio averlo per le mani recensirlo come no una volta che mi serve a me la recensione recensirlo per prendere le misure e fare tutte le considerazioni del caso perché io prima l'amico dell'Oyster Perpetual 41 io preferisco il 39 che è uscito di produzione due o tre anni fa erano 39 i più belli erano quelli con il quadrante bianco e con il quadrante nero perché avevano gli indici in chroma light mentre gli altri no ce l'avevano in oro bianco erano un po' vedo non vedo questi qua da 41 li ho sempre un po' tenuti fuori però mi dici che è da 39 se è da 39 posso anche riprenderli in considerazione perché mi piace a me l'Oyster Perpetual qua della Rolex specie questi qua nuovi con la configurazione del quadrante a doppio indice così mi piace potrebbero essere da prendere in considerazione anche se è un po' anonimo mi piace però alla fine dico è anonimo c'è la stessa cassa poi del mio Dejas oppure dell'Explorer cosa facciamo prendiamo sempre tutti gli orologi con la stessa cassa e cambiamo il quadrante un po' così però mi piacerebbe se si potesse avere tantissimi orologi io a te ti do un bel sette e mezzo perché c'è un bel numero di orologi validi ma anche il sagge sa all'inizio ma ci sta piglio un bel sette e mezzo perché poi anche consapevolezza di scelta vai per la tua strada e ti piacciono gli orologini meccanici bravo dai sei promosso sette e mezzo te lo sei meritato tutto davide buonasera sono un tuo fedele seguace non ti piacerà sentirlo dire ma è così sono Alessandro da Firenze ti faccio vedere con grande piacere la mia fammi un po' vedere cosa sono questi qua sette trentaquattro uno tre cinque amici del MotoGP ditemi un po' che razze sono queste qua perché mi sembrano un po' le carine vecchie non so che numeri sono vabbè inizio con questo certina del 1960 bello carica manuale in oro full gold un orologio molto semplice ha qualche problemino è un po' graffiato però ha una bella storia mi è stato regalato dalla suocera di mio fratello suocera era l'orologio con cui il signor Paolo come mi piace chiamarlo a me era una persona splendida si è sposato e mi ha regalato la signora purtroppo è deceduto mi ha regalato l'orologio di suo marito per dei piaceri che gli ho fatto sapendo la mia grande passione per gli orologi un regalo davvero molto molto apprezzato un 34 mm carica manuale molto semplice ma che metto con piacere questo è un orologio invece che mi ha comprato il mio caro amico Samuele è un tuo iscritto nel canale l'ha comprato nel suo viaggio in Giappone l'abbiamo comprato insieme per così dire con vari messaggi tra notte e giorno del fuso orario è un Seiko Pad abbastanza grande mi piace molto nei colori e ci ho messo questo cinturino che mi ha aiutato a trovare degli amici di un negozio di cui dopo ti parlerò è un bello orologio è grande ma mi piace davvero tanto con questo cinturino fra l'altro va bene ci sta blu questo invece è il mio primo orologio del 1992 è un Maurizio Lacroix è chiaramente ha i richiami degli anni 90 però mi piace è stato il mio primo orologio l'ho ritrovato in un cassetto dopo tanti anni l'ho risistemato l'ho fatto rimettere in ordine da un amico di famiglia che fra l'altro è un ragazzo giovane che fa ripare agli orologi alla grande ho messo questo cinturino molto semplice però gli ho fatto riacquistare un po' di freschezza per così dire nonostante sia un orologio di tanti anni fa adesso passo a un orologio che è un gioco che facciamo con il mio amico Adamo anche lui appassionato di orologi ci diamo un budget ci diamo delle caratteristiche è un Timex al quarzo questo dove lui mi ha abbinato questo piacevole cinturino è un Timex al quarzo ma che ha fatto iniziare questo nostro gioco ogni anno o quando abbiamo voglia ci diamo delle caratteristiche un budget e ci facciamo un orologio a vicenda di regalo io lo scelgo per lui non lo scegli per me cerchiamo di accontentarci e sinceramente fino adesso ci siamo riusciti adesso guarda infatti in questo orologio che chi è a Firenze in questo negozio scusatemi che chi è a Firenze dovrebbe dovrebbe davvero provare non so se si riesce a leggere per bene sono dei ragazzi veramente molto ben preparati che garantiscono gli orologi che loro vendono è un piccolo negozio ho trovato Adamo anzi mi ha regalato questo Vulcan del 1950 è un oversize per l'epoca è un jumbo tra l'altro perché è comunque di 37 mm e mi piace molto il font dei numeri di questo di questo orologio bello tenuto benissimo lo porto con piacere sempre in quel negozio invece io mi sono comprato questo Longines Conquest del 2002 bravo bravo tutto fra l'altro con il suo non si vede bene il suo cinturino originale e mi piace è un automatico davvero classico ma bello bello mi piace ascolta io il pietro da visita chiaramente lo censuro lo oscuro perché non è che chiunque passa di qui sul mio canale e si mette a fare la pubblicità ai negozi altrui altrimenti poi tutti incominciano a mandarmi video nei quali con un trucco o con l'altro mettono il pietro da visita di quello la pubblicità di quel negozio di quest'altro di quello sopra di quello sotto c'è anche chi ha provato a mettere in vendita gli orologi utilizzando questo canale qua e cosa facciamo diventiamo una battaglia quindi te lo oscuro così nessuno sa che negozio è ne stai parlando bene non ho dubbi che è perché sei convinto di quello che stai dicendo che non è nessun interesse nessun secondo fine però io lo oscuro così siamo tutti contenti è sempre in quel negozio un nos questo cioccolatino del 1950 con il suo cinturino oh io mi si sfoca in coccodrillo è piccolino per me però mi piace mi piace era nos e lo volevo avere anche questo bravo e sempre in quel negozio sono comprato questo bellissimo oris 65 crono dove mi sono fatto aiutare da loro a scegliere questo bel cinturino è un orologio che mi dà tanta soddisfazione tanta mamma mia quanto è bello questo orologio fantastico poi poi questo invece è un orologio che un mio caro amico non utilizzava più l'aveva lasciato dentro un cassetto purtroppo ha qualche problemino tipo qui vorrei cambiare anzi vorrei sapere il tuo punto di vista se portarlo in Omega e far cambiare queste parti un po' usurate così come qui manca il logo Omega lo vorrei far rimettere vorrei valutare se se farlo risistemare un orologio del 1990 è automatico con un pre-bond come lo chiamano bellino mi piace ascolta io non so cosa dirti se lo mandi in Omega costa un botto un botto nel senso insomma partiamo dal presupposto che l'hai preso gratis sto qua e costa dei soldi questo orologio non so che diametro è perché mi sembrava piccolo ma costa ugualmente dei soldi costa dei soldi quindi l'hai preso gratis è tutto guadagnato quindi se te lo prendi lo impacchetti e lo mandi all'assistenza ufficiale non sbagli non sbagli perché te lo rimandano ti fanno preventivo costerà un pochino di più del solito perché ci sono anche delle parti che sono fuori da service normale però io ti consiglio a fare così se no visto che l'hai pagato zero se no se vuoi risparmiare ma significa proprio essere tirannosauros rex a quel punto lì cercati un orologiaio in quel di Firenze e i tuoi amici del negozio lì e i tuoi amici e invece qui si inizia la mia grande passione per gli orologi del signor Calamai che ti conosci molto bene pensate l'MK3 l'MK4 l'MK72 io ho possibilità di avere a che fare con Calamai per lavoro e mi racconta storie sui suoi meravigliosi orologi e sono veramente contento di questi orologi mi piacciono tantissimo la storia la conosciamo bene ma su questo mi piace anche il cinturino suo del Calamai che mi ha consigliato di abbinare a questo orologio che fra l'altro hai anche te che è di un equilibrio questo orologio è perfetto secondo me nelle misure nelle caratteristiche lui usa i sellita top grade è veramente un piacere certo e qui i cecchini vorrei un top ma non me lo dare ma un toppino eventualmente perché qui c'è il G50 freccia nuovo che fra l'altro ho potuto prendere anche se un po' graffiato perché l'ho usato tantissimo nel suo cinturino loggato anzi bracciale loggato Calamai è la famosa riedizione anzi è la rivisitazione del suo orologio che l'ha risistemato per bene e ti devo dire che veramente a questo giro si muove che è una bellezza questi pulsanti sono fantastici questo in questo momento è il mio orologio preferito in assoluto mi piace proprio mi piace questo qui l'ultimo te lo volevo far vedere perché so che ti piace ce l'hai anche te anche se hai il coassiale questo è la versione precedente 1861 ma ti volevo far vedere più che altro il cinturino sì il cinturino originale in coccodrillo perché mi sembra che chi ha richiesto in un video se questo cinturino fosse originale forse mi sbaglio questo l'ho proprio comprato con questa configurazione orologio meraviglioso e me l'hai fatto riapprezzare te da quando hai messo i tuoi cinturini si cambia in aboccata io ce l'ho in coccodrillo originale dell'Omega che è meraviglioso bravo ti ringrazio davvero della disponibilità non so fare l'over rock un son buono per queste cose io ti dico il saluto vulcaniano lunga vita e prosperità ciao Davide ciaoone ciaoone ah bella collezione ti do un bel sette e mezzo ti do un bel sette e mezzo finalmente cioè finalmente per la prima volta abbiamo trovato un fan di Orologi Calamai ce n'ha quattro vabbè che Firenze lì è la lingua fiorentina ho sentito il dialetto l'amico Calamai la zona è quella quindi avrà che fare direttamente per lavoro eccetera eccetera e se li hai presi tutti bravo l'MC72 ce l'ho anch'io e così via il G50 si l'ha sistemato ha fatto Calamai quando gli dici ma forse questo qua è un pochino troppo e lui butta stravolge tutto e cerca di cambiare e di sistemare ogni piccolo punto debole che c'è all'orologio con il G50 ha fatto dei salti mortali e ha tirato fuori le nuove versioni che sono ancora meglio di quelle prima complimenti poi il discorso lì del cinturino si sullo Speedmaster ho cominciato a mettere quello in coccodrillo nabuccato no cioè scamosciato bello e mi si è rivitalizzato l'orologio rispetto al bracciale non sto più utilizzando il bracciale dello Speedmaster perché o utilizzo quello nabuccato che mi ha fatto John Kuh straps oppure quello nato per andare in palestra quindi poi vabbè verrà il momento in cui rimetterò anche quello d'acciaio per godermelo un po' con l'acciaioso solo che il mio non c'è la la clasp con la regolazione micrometrica c'è i forellini due forellini e vabbè niente 7 e mezzo te l'ho dato complimenti per gli orologi anche per i nos per il belloncinetto bello begli orologi 7 e mezzo tutto meritato perché non si può dire niente dai boh ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto non è che possiamo stare qui all'infinito a lisciare i caimani devo andare su Instagram a vedere i gattini i video dedicati ai gattini che loro saltano di qua e di là fingendo di essere ingenui per poi un giorno approfittarsi della situazione e prendere il controllo del mondo questo lo sappiamo tutti e i cani lo sanno perché li abbaiano i cani perché sanno che è un pericolo che stanno per conquistare il mondo ah questo perché io vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube wow ciao ciao ciao